Firmato? Ma hai letto per cosa? Sì, 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 allora Hai letto cosa stai firmando? No Un paio di giorni fa Audi mi ha invitato ad assistere a una loro gara di sci La Audi 4 Ski Cup Ora, io non sono una persona competitiva Mi è capitato di fare e di vincere una gara di sci l'anno scorso Ma ciò non fa di me un atleta o un professionista Guarda, io se vuoi ci posso provare Però non verrò da esperto atleta Cioè, verrò per divertirmi No, ma tranquillo, tranquillo Lo che devi fare è venire a divertirti Dai, allora Te lo confermo, allora Ma se ce la fai, magari porta qualche tuo amico Vai, vai Ma questo è interessante, vai Perfetto Ottimo, allora ci vediamo questa fine settimana Dai, ma che tempo che mi c'è questo weekend? Dov'è ne assia? Dai, sì, mi manca un sacco Carico? Sì Beh, l'ultima volta non è andata malissimo L'importante è che non siamo più stelle Nere, rosso, blu Domani continuiamo un po' le lezioni Ciao Grazie Con nere sei nato tu, Trudor, fammi dare la data un attimo Tu cosa metterai 97 anche tu? E poi tutti gli altri Saranno più o meno gli stessi dati Direzione? Il nostro è una camioneria Ok Volterai in quota a Refugio Bucca E il di Savagna, lo sa Il di Savagna No 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 In quella serata oltre a bere e mangiare ci sarà anche la consegna dei pettorali per la gara Gara alla quale anche Emanuele a sua insaputa si è riscritto Emanuele Valloro C'è grande aspettativa per arrivare per noi Vedete che lo nascondiamo Non asciare perché No Emanuele a dare fare bene le riduzioni Non so neanche andare dritto Appunto Deve bisogna fare bene le riduzioni E sto da solo Tranquillo tranquillo Andrà bene Sì 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 Mi fa piacere che chiunque mi prenda a aprire il culo Non è scuro Non è scuro Non è scuro Sì Sì Spiegami perché sai, poi gli altri dicono ma... No, gli altri... Ho provato per la prima volta tre settimane fa... Ah, però, allora è vero! Siamo fossero prese in giro! Allora, siamo in una pista un po' impegnativa per fare degli esercizi, per portarti... Va bene! Cosa è quella pista? La pista da qua non fa tantissima paura! È impensabile! Sì, in effetti, come ha detto Emanuele, era abbastanza impensabile! Lui ha sciato per la prima volta in vita sua giusto un mese fa, quindi... L'idea di fargli fare una gara forse era un po' troppo! Sarebbe stato divertente quello di sicuro, però non avrebbe avuto senso! Io in questi anni ho sempre cercato di spingermi, oltre a quelli che sono i miei limiti, ho sempre cercato di fare e di dare sempre il massimo! E continuerò a farlo! Solo che sono delle volte in cui uno deve essere anche responsabile e consapevole di se stesso e di dire di no! E quando c'è di mezzo della salute, ragazzi, non bisogna mai e mai esagerare! Ci rinuncio! Lasciamo perdere! Anche perché è bello ripido, la neve è un po' ghiacciata, la nebbia non sta aiutando, quindi... Non ti divertiresti a farla, perché te la faresti con ansia e con la preoccupazione di farti male magari, quindi... Lascio perdere! Pensa più che altro a farti due piste qua per divertirti e per imparare! Dai, vinci per entrambi! 53! 3! Dai! Partito il 30, empatese il 53! 1, 3, 2, 1, 2... 55! 82! Ed è primo! Ed è primo il suo sogno per la sua categoria! Cosa? Ah! 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 Bene qua! Sì! Che tempo hai fatto la prima mancia? Eeeh... Vedi, ho fatto 40! Cioè vuoi dire che vai in finale? E dipende come va la seconda mancia! Esatto! Che tempo hai fatto la prima volta? 55! Mentre il campione mondiale ne ha fatti... 48! 15% di differenza! Sì! Però, cazzo, stiamo parlando del campione del mondo! Perché adesso arriva la seconda mancia! Ho sceso giù un sacco di nebbia! Ok! La pista è molto più ghiacciata! Ed è più... più difficile! Dovrei fare il meglio del tempo di prima! 3! 2! 1! 1! Signori e signori! H.U. Krauss! Al secolo! Tudor! Tudor! Laurini! Era primo al suo arrivo della prima mancia! Adesso vediamo! Chiude il 53,95! Aveva un 55,82! Migliora di quasi due secondi! Molto bene Tudor! Vedremo se sarà abbastanza per farvi salire sul podio! Era in realtà in lotta per il podio! Lo vedremo più tardi! Alle previazioni! Molto bene! Due secondi! È andata bene! È andata bene! Rieccoce! Seconda mancia finita! Non era anche abbastanza bene ho fatto il meglio di prima! Però non è stata abbastanza! Giustamente anche! Ho perso per un secondo! Neanche cinque! Dieci! No! Uno! Adesso potrei incazzarmi! Potrei rosigliare! Ma in realtà... L'unica roba che provo è Felicità, che dovevo divertirmi, mi sono divertito, è stata un'esperienza bellissima, per di più sono finito anche sul telegiornale, ciao mamma! Quello che faccio anch'io è quello di condividere tutti i aspetti della montagna, che possono essere sia l'alpinismo, che appunto è la parte più alpina, la parte delle gare, la parte angio della bicicletta, anche la parte delle ciascolate, insomma, perciò felicità le impressioni possibili della montagna. E soprattutto mi hanno fatto driftare su un lago viacciato con un'audi elettrica per 400 cavalli. Mi hanno messo qua in questa macchina per fare un paio di foto, ed è la prima volta che salivo, penso... Si va? Si va! Si va! Forse c'è una roba che dovrei dirti, io non ho mai guidato una macchina. Perfetto, è ottimo, sono qui apposta. No ma non ha mai guidato una macchina in qualunque contesto, è seria questa cosa, però... Ma quindi non guiderai tu, si. Aspetta che vado a prendere il casco. Questa sarà la prima volta nella tua vita che guiderai. Aspetta! Aspetta! No, ok, questa qua è una cazzata. Niente, hanno finito i caschi, ti tocca passare. Fallo dietro, sarà per la prossima. Anch'io! Tra un paio di mesi. Abbassati, non ti inquadra. Ok, metti il più a destra. Ah, volevi una foto? Ok, metti il più. Grazie a tutti.